Per le giornate FAI di Primavera 2016 a Barletta ecco al lavoro gli apprendisti ciceroni dell'Istituto Comprensivo d'Azelio De Nittis. Li incontriamo nella chiesa di Sant'Andrea. Nicola e Marco sono due apprendisti ciceroni, ecco una bella esperienza, soddisfatto? Sì certo, mi è piaciuto molto aver fatto parte del FAI perché per rappresentare queste sculture che molte persone non iranno a conoscenza. Ecco Marco che dice? È stata una bella esperienza e oltre ad una bella esperienza impari molte cose su questi dipinti e su queste sculture. Una scuola mica FAI che crede nella formazione a 360 gradi evidenzia il dirigente scolastico Alfredo Basile, plaudendo l'impegno del delegato provinciale FAI, Rosa Crocetta, e l'operato dei ragazzi e delle docenti, le professoresse Giorgia Allegretta e Maria Sterpetta Di Matteo. È da tre anni che noi portiamo avanti questo progetto, quindi i nostri ragazzi hanno fatto da ciceroni per tanti monumenti della nostra città, sono stati a San Domenico, alla Chiesa dei Greci, poi alla Pinacoteca dei Nittis, al Palazzo della Marra. Quest'anno siamo qua però con una qualità in più. Siamo diventati scuola mica FAI, quindi partecipiamo di diritto alle giornate di primavera del FAI e nello stesso tempo i nostri ragazzi sono stati promossi come apprendici ciceroni e questa è una cosa abbastanza importante. Io devo dire che rimango ogni anno stupito dal modo con cui i ragazzi affrontano questa esperienza. Quello di dimostrare non soltanto di saper fare ma addirittura di saper essere, cioè la loro personalità, il fatto di porsi in maniera anche problematica rispetto alle domande che molto spesso anche adulti hanno rivolto loro e questo devo dire grazie a un'esperienza che loro hanno maturato anche soprattutto per merito di due docenti della nostra scuola, la professoressa Allegretta e la professoressa Di Matteo, che devo dire con tanta professionalità preparano questi ragazzi. Ecco è molto bello vedere le scuole che partecipano a queste attività. E noi facciamo solo quello praticamente, perché tra le tante cose che si possono fare per il FAI la nostra delegazione ha proprio un occhio particolarissimo per l'inclusione delle scolaresche in questi processi di conoscenza del territorio. Personalmente mi sembra quasi una missione. Io ho insegnato per tanti anni e sono convinta che se noi non sensibilizziamo i ragazzi sulla bellezza delle cose che abbiamo, non li mettiamo in condizioni di apprezzarle e quindi di sentirle proprio. Da Barletta per News24.city Floriana Tolve